Noi ce la dobbiamo combattere tutti i giorni dalla mattina come apriamo l'occhio e va bene anche di poter pensare di andare sulla luna e trovare qualcosa di molto più bello. Quello razzo per me è una lettera direttamente al sindaco. Non è semplicemente la fantascienza che immagina un futuro, è un gioco che si fa sul presente, qui ed ora in cui si prefigura come se le cose fossero già così. Più che altro non è sfida. La sua luna vuole dannare. Se il metropolis riesci con il razzo a arrivare verso la luna, la prima cosa che deve fare è occupare col terreno lì e fare la luna aperta per tutti e senza confini.